Tra i suoi doppiaggi quello dell'attore Uge Reynold nella trilogia di Beverly Hills C.O.P. e Day. Personaggi Disney di Fenton Paper Conchiglia, Robo Papindak Thales, Gruffi Gumi nei Gumi, Monterrey Jack in Chip and Choppa agenti speciali e Puffo Poeta in I Puffi. Tra gli attori doppiati Steve Guttenberg, John Turturro, Liam Neeson, Zero de Depardieu e il cantante Stingin Dune e Bring on the Night, Martin Vainek ne il commissario Rex. È figlio dello storico doppiatore Giuseppe Rinaldi e dell'attrice di teatro Marina Dolphin. Fratello della doppiatrice Antonella Rinaldi e dell'attrice Francesca Rinaldi. Dal 2001 ha partecipato come attore a due serie della fiction Carabinieri nel ruolo del Capitano. Maurizio Ranieri, è laureato in lettere moderne con l'Ode presso l'Università La Sapienza di Roma.